Nell'ambito dei controlli per verificare il regolare accesso ai contributi pubblici a fondo perduto, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno segnalato gli amministratori di una società della zona che aveva illecitamente percepito oltre 50.000 euro. I finanziamenti previsti dal decreto rilancio del 19 maggio 2020 per sostenere i tanti professionisti ed imprenditori colpiti dalla crisi economica post-pandemia consistono nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione commisurata alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica. Sono finiti così nel mirino delle fiamme gialle della Compagnia di Cava dei Tirreni, coordinati dal sostituto dottor Davide Palmieri, un commercialista e i due titolari di un'impresa del settore edile che erano riusciti ad ottenere il beneficio certificando minori introiti per l'anno 2020. Per far risultare tali perdite i tre indagati, tutti di origine cavese, avevano fittiziamente documentato ricavi relativi al 2019 nettamente più alti, utilizzando a questo scopo una fattura falsa emessa per un importo superiore a 300.000 euro. Grazie agli accertamenti bancari è stato tra l'altro appurato che il materiale ideatore della frode era il consulente fiscale, tenutario delle scritture contabili a favore del quale sono risultati diversi bonifici mentre il formale rappresentante della società era nei fatti un mero prestanome allo Stato irreperibile.